Come dicevo prima, ritengo che chi vede che alcune cose non funzionano, se è sinceramente in buona fede nel voler migliorare la condizione della propria nazione, ma anche del contesto europeo, debba fare delle proposte. Io ho fatto delle proposte e mi dispiace, ve lo dico sinceramente, che in buona parte di questo dibattito, al netto di gli amici, i nemici, stiamo con la Germania o stiamo con l'Ungheria, tutta questa semplificazione della politica estera, perché io la considero una semplificazione, ve l'ho detto in passato, lo ripeto, poi nel merito delle proposte che abbiamo fatto, nel merito della lettura che io ho tentato di portare con la mia relazione, non ci siano alternative, nel senso si può non essere d'accordo con le proposte che faccio, se ne possono fare delle altre, in alcuni casi, chiaramente in moltissimi casi non saremo d'accordo, sicuramente la scelta migliore per me non è mettere la testa sotto al tappeto, per nessuno di noi.